E' stato finalmente riposizionato il nuovo bivacco De Siati, Ezio Lubrano, sul Gran Sasso d'Italia, sul suo promontorio originario tra il Monte Prenna e il Monte Camicia, a quota 1815 metri. L'importante operazione logistica, coordinata dall'Agenzia regionale di protezione civile, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'esercito e numerose istituzioni antilocali e realtà associative, tra cui i Corridori del Cielo, che ha promosso l'iniziativa. La nuova struttura, intitolata alla memoria di Pier Giorgio De Siati, tecnico del soccorso alpine e speriologico della stazione dell'Aquila, è un allestimento in metallo coibentato, progettato per resistere alle condizioni ambientali più avverse. A trasportare la struttura è stato un elicottero del primo reggimento aviazione dell'esercito Antares, idoneo per i trasporti pesanti in quota. La struttura è stata ancorata su una piattaforma in cemento armato già predisposta sul posto. L'aspetto importante è che sul Gran Sasso finalmente esiste di nuovo un punto dove i frequentatori delle meravigliose montagne potranno fare riferimento in caso di necessità. L'idea di ricollocare il divacco è nata dall'esigenza di fornire un punto di riparo sicuro nella zona orientale del Gran Sasso, che fino ad oggi era priva di rifugi di emergenza. Nel corso di questi anni il progetto ha incontrato diversi ostacoli di natura tecnica, logistica e ambientale, che hanno trovato soluzione grazie all'impegno di tutte le parti in campo, compresa l'amministrazione comunale di Calasso, proprietaria di quella porzione di territorio. Un'attività di sistema che abbiamo coordinato noi dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Abruzzo, ma che comunque ha coinvolto tantissimi enti e istituzioni a partire dall'esercito italiano, sia con il Comando Militare Esercito e con il Regimento Antares, che ha fornito l'elicottero CH-47, che ha portato in quota il bivacco, ma anche con i Vigili del Fuoco, che hanno contribuito all'installazione del manufatto che serviva per poggiare il bivacco, della Guardia di Finanza, delle tante realtà private che hanno contribuito materialmente alla realizzazione del bivacco stesso. Inoltre dal Consiglio regionale, nelle persone dei consiglieri Massimo Verrecchia, Pierpaolo Petrucci e Carla Mannetti, che si sono fatti parte di gente per raccogliere le risorse e consentire questa operazione. Un'operazione complessa, perché poi di fatto si tratta di mettere insieme tante realtà differenti, però che convergono tutte nell'interesse primario e principale, che è la salvaguardia della vita umana, perché quel bivacco da oggi, non lo faceva più da oltre vent'anni, da oggi è di nuovo un riferimento per chi frequenta le montagne e dovesse trovarsi in difficoltà.